Buonasera a tutti. Al minuto 7 e 20 della scorsa analisi ciclica evoluta, in cui facevo il punto su Bitcoin, segnalavo che avremmo dovuto piano piano andare a chiudere l'inverso e quindi andare a rialzo. Che cosa abbiamo fatto? Siamo saliti. Perfetto. A questo punto però mi sono rimesso a riguardare tutta la centratura, perché continuano ad esserci una quantità di raccordi che è spaventosa, ok? Tantissimi, come sta succedendo anche sugli altri mercati, i raccordi sono delle finte. Si finta una prosecuzione verso un verso e poi si riprende nell'altro. Guardate qui. Si finta una partenza a rialzo da questo minimo e poi ci si va invece sotto con un ribasso forte e repentino. Per cui uno pensa di dover salire e invece, boom, si prende un pezzo di un ciclo in testa. E poi però si ritorna a salire esattamente come magari ci si aspettava. Il discorso è però che è difficile, se non si è in gamba, gestire con degli stop loss adeguati questo genere di finte cicliche, ok? Per cui, dato che comunque ho riguardato per bene l'analisi su S&P 500, ho fatto anche delle considerazioni su Bitcoin. Nel senso che sto vedendo che la velocità del mercato è alta. Come segnalavo già quando eravamo ancora ad aprile, abbiamo avuto una ripresa rapidissima e stiamo tornando di nuovo sui massimi assoluti a 10.500, sembravamo di nuovo fatto qui uno spike a 10.200. Quindi sono 300 dollari su 10.500, non sono una grandissima cosa ormai. E soprattutto abbiamo provato a mantenere, appunto, nonostante questa orrenda lateralità degli ultimi giorni, la media mobile ha 50 periodi, ci siamo stati sotto per un po' di tempo e poi ci siamo ritornati piano piano sopra, però stiamo viaggiando rapidamente, ovvero vi faccio vedere. Da qui è partito un nuovo annuale, un nuovo TP5. Ha fatto un primo TP2 e un secondo TP2 e ha chiuso a 59 barre. 59 barre per un trimestrale sono poche, sono 60 giorni di borsa aperta. In realtà Bitcoin è aperto tutti i giorni, quindi sono 60 giorni comunque. Successivamente, dato che quindi abbiamo avuto un TP3 corto, stiamo avendo di nuovo, qui abbiamo avuto un 48 barre, che di nuovo è un TP3 cortissimo, e qui potrebbe essere partito persino non soltanto un TP2 mensile, ma persino un TP3, quindi un trimestrale da questo minimo qua. Sono durate cortissime. In media un trimestrale non dura 48 giorni, che è poco più di un mensile. In media, se vogliamo parlarci chiaramente, siamo dai 64 giorni in più, in su, 70 giorni. Stiamo invece stringendo molto e continuando a serrare per salire, quello che ho sempre detto relativamente all'inverso, sui mercati come su Bitcoin. Per cui, se da qui comunque è partito un TP2 mensile, cosa che è già compramata per il fatto che comunque abbiamo avuto un minimo più profondo di tutti gli altri minimi, che quindi ha chiuso il precedente movimento, e qui in realtà abbiamo comunque avuto un 107 giorni, che sembra quasi ormai, anzi sembra, è un TP4 sostanzialmente, un semestrale ma corto, veramente corto, e da qui possiamo, come dicevo, ipotizzare non soltanto la partenza di un TP3, ma al passino di qualcosa di più. Oltretutto stiamo continuando, come detto, a vincolarci a ribasso di inverso e quindi rialzo di indice, con un'attenzione particolare però, ok? Qui abbiamo avuto il massimo assoluto, in cui abbiamo praticamente ripreso i 10.500, abbiamo fatto i 10.429 dollari. Da questo massimo sono trascorsi 55 giorni, quindi, primo trimestrale fatto con, peraltro, una distanza tra massimo e massimo, veramente molto piccola, quindi che ci dice che questo inverso, di nuovo, ha poca forza di spinta verso il basso, e ne ha di più a provare a rivincolarsi verso l'alto, di indice, quindi salita di bitcoin, sostanzialmente. Il discorso è che, però, se qui, appunto, avendo fatto già 55 giorni, non vogliamo proseguire ancora un pochino, prima dovrà esserci un po' di spinta verso il basso, da domani in avanti, per andare anche a chiudere il nostro TP1, il nostro mensile di lato indice, lato bitcoin. Siamo già arrivati a, potrebbe essersi chiuso qua il primo settimanale, a 8 barre, più 2 barre che fanno partire il secondo settimanale, il secondo T, e successivamente, se volessero c'è un po' di spinta per far partire un nuovo T più 3 inverso, bisognerà spingere un po' verso, magari, questo livello della... superiore della cumo, e per un po' di giorni, perché sapete che per far partire un T più 3 inverso, abbiamo bisogno perlomeno di un T inverso settimanale rialzista, ovvero ribassista per quanto riguarda il prezzo di bitcoin. però preferisco fermarmi qui, ho fatto un'anteprima di quello che vi sto dicendo, anche con questa bella divergenza ribassista in essere, già da un po' di giorni, ok, però ribassista con questa potenziale chiusura di cicli, contano più cicli di tutto il resto, questa è un'altra considerazione, in più, che però valorerebbe la tesi di una partenza di un qualche cosa a ribasso per domani. Però, iniziamo a prendere questa informazione, esattamente come quella segnalata a 7 minuti e 20 della sports analysis, in cui dicevo che si sarebbero aggiornati top, ed effettivamente siamo andati a salire per andare a chiudere appunto l'inverso, e proseguiamo, d'accordo? Proseguite come al solito con l'analisi a 4 ore e poi a 1 ora o mezz'ora. A quel punto potete gestirvi sia sull'intraday che per anche il verso. Ricordatevi che il trend, la tendenza, nonostante questo disastroso periodo di lateralità, è sempre comunque ben impostata a rialzo, ok? Per cui se dovete privilegiare delle posizioni o più posizioni aperte con una filosofia di money management, ricordatevi, long, in questo momento vediamo se ci sarà uno storno verso il basso, ok? Una perdita di prezzo che ci potrebbe riportare appunto verso 9.6, 9.550. Successivamente, ricordatevi che sempre il trend è per ora ben impostato a rialzo, anche se le medie mobili si stanno comportando come quando poi magari vogliono fare qualche sorpresa. Ma per ora noi vediamo questo, d'accordo? Ringrazio per il vostro tempo, se volete investire in voi stessi, sapete che sono a disposizione con del materiale gratuito per la ciclica di base, perché prima si passa dalla base per arrivare all'evoluta. L'evoluta include talmente tante cose, tra cui anche GAN, che è troppo complessa per essere studiata a partire da zero. Prima fatevi una bella base di analisi tecnica, candele giapponesi, indicatori vari e poi di ciclica che da sola vale tanto studio. Successivamente, si può arrivare piano piano all'evoluta che contiene anche GAN. Se l'analisi vi è piaciuta, pacca sulla spalla, ovvero mettete un bel like. Se vi interessano questo genere di analisi e avete visto che anche la precedente era corretta, e se ci trovate del valore, sottoscrivete gratuitamente il canale, cliccate sulla campanellina in modo da poter sempre essere avvisati quando verrà fatta una nuova analisi. E ricordatevi che coordino due gruppi di trader su Facebook, una community con oltre 1200 persone ormai. Buona giornata a tutti!